Buongiorno, ci troviamo nella regione Basilicata, in provincia di Potenza, nel comune di Rapolla, dove hanno sede i nostri vigneti che da oltre 20 anni sono stati piandati con amore e passione. Viviamo comunque un momento difficile per la nazione e per il nostro comparto. Dopo questa prova di forza, sicuramente riusciremo a superare tutte le difficoltà che abbiamo incontrate e che stiamo incontrando. Ci renderà più forti e più ricchi di idee e di iniziative. Con questa premessa auguro a tutti, gli agricoltori, i viticoltori, le cantine, i nostri clienti, ad avere fiducia e continuare a lottare. Superiamo queste difficoltà augurando a tutti un Buon Natale e un Felice Anno Nero. Grazie. 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 Grazie.